Il lotto numero 345 invece è una scultura di Francesco Messina, è un pezzo unico, rappresenta la cantante afroamericana Gloria Devi, è stata eseguita nel 1958. Francesco Messina è una scultura in bronzo, le cui dimensioni sono 70x20x15, ha l'autentica dell'artista su fotografia ed è stato esposto ad Ancona alla Mole van Vitelliana alla mossa che c'è stata dal 2003 e il 2004. Proprio una mostra antologica di Francesco Messina, 100 sculture. Vi ho già detto proprio e la cantante, chi se la ricorda, la cantante afroamericana statunitense Gloria Devi, 1958. Infatti le fattezze è molto simile, anche questa postura è molto simile alla cantante. Il prezzo di base d'asta per questo pezzo unico di Francesco Messina è di 15.000 euro di base d'asta. Scultura in bronzo, pezzo unico, le dimensioni sono 70x20x15,5 e 15.000 euro il prezzo di base d'asta. Ora passiamo all'otto successivo.